Buongiorno a tutti e benvenuti su un Natale del 1945. Un Natale del 1945 è il nuovo film diretto dal regista Fabio Rosi ed è la prima volta che un racconto del celebre scrittore Mario Rigoni Stern viene trasposto in chiave cinematografica. All'interno di questo canale potete trovare tutte le novità, le curiosità, i backstage, dietro le quinte, le interviste, insomma tutto quello che riguarda questo grande progetto. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche in modo da essere sempre informati sulle novità. Grazie e alla prossima!